Siamo allo store ufficiale del Renzo Barbera e tra poco i nostri tifosi incontreranno il capitano Ilian Nestorowski. Sentiamo cosa pensano di lui. Cosa vorresti dirgli? È un'emozione bellissima, spero che lui faccia tante cose a Palermo e ci darà tanta soddisfazione. Io gli dico sempre di non mollare e di dare veramente tutto perché questa città merita la Serie A e lui lo sa. Che l'ultimo giocatore non deve mollare perché ci meritiamo la Serie A. È un momento da due anni perché l'anno scorso non ci sono in tutto da nire e finalmente quest'anno ho avuto l'occasione di conoscerlo. Per me è un fenomeno, è forte. Un giocatore che dà tutto in campo, grande grinta, grande sacrificio. Penso che sia uno dei migliori attaccanti che abbiamo avuto negli ultimi anni. La caratteristica migliore penso che sia il fatto che segna così sempre. È un giocatore veramente di talento per questa squadra. È uno molto legato alla maglia e credo possa contribuire per tornare in Serie A. Forza a Palermo!